Queste sono le mascherine chirurgiche e queste sono quelle che secondo la protezione civile per noi vanno bene. Cioè si attaccano dietro gli orecchi. Cosa sono? I smircola. Te ne puoi rimettere allo SWIFT per un secondo, grazie. Ah SWIFT! Sono le uniche che sono riuscite a recuperare? Queste vanno bene per lavorare negli ospedali? Ma queste le vanno bene per gli ospedali? E certo, per cosa ce li andate? Noi abbiamo bisogno, 300.000 mascherine, la sport non ci sta neanche. Questa è una mascherina. Capiamo le esigenze di tutti, ma quando si dice che queste qua possono andare bene per essere distribuite da una persona che va negli ospedali, perché noi per quello le abbiamo ricevute e le abbiamo distribuite, in maniera analoga a questa e in maniera analoga a questa. Ditemi voi. Dopo io capiamo le esigenze di tutti, non vogliamo colpabilizzare nessuno, siamo in un momento difficile. ma che ci si dica che queste possono essere distribuite e date ai nostri infermieri e ai medici che trattano i pazienti Covid. Grazie. Grazie.